All'angolo rosso con un record formato da 24 incontri, 21 vittorie, 5 dei quali per K.O., 3 sono le sconfinte per il Bullsteam da Tivoli, Gianmarco Giossi! Il suo avversario all'angolo blu con un record formato da 15 incontri, 12 vittorie, 2 sconfinte ed un pari per lui, per il team Marcello da Firenze, che bro, neguzze e si sai! È la prima ripresa! È la prima ripresa! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.